Altre cose vorrei per fuori che facciamo un grosso applauso per il Lucchetto, il figlio di Stefano. Poi ovviamente c'è un ringraziamento per tutte le squadre, partecipanti, quelle che si uscite, insomma quelle che sono state anche quest'anno per la dodicesima volta. Ovviamente non è che ho accontento a tutti come sempre, c'è chi è più contento, c'è chi è più scontento, c'è chi mi manda raffanculo, chi mi manda le maledizioni, però io non posso fare niente. Noi cerchiamo di farlo nel migliore dei modi, poi ognuno ha le sue vedute e ognuno pensa a quello che vuole, però ho accontento se poi ogni anno ci rivediamo qui. Comunque, veloci veloci, perché noi non andiamo a fare la finale, partiamo con la premiazione del torneo B, dove? Allora, miglior giocatore del torneo B, Onofri Paolo. Grazie. 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 Secondo classificato, torneo B, San Fottino. Grazie. Grazie. Primi classificati, Torneo P, Bar 900. Passiamo al torneo A, il capo cannoniere del torneo A, Orucce Luga. Il miglior giocatore del torneo A, Enrico Fabio. Poi, il miglior portiere sempre torneo A, Caruso Daniele. Allora, prima dell'ultime due coppia, volevo dire che tutto il servizio di stasera o tabellini, foto e tutta, lo troverete anche sul sito di Alessandro Giulietti, che è preciso, dicono, Cuscia Sport Life. Ok? Quindi domani o dopo domani, vantai trovare tutto pure lì. Secondo classificato, Torneo A. Famili Ozzum. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.